Il grande giorno è un affresco, un affresco di una famiglia matriarcale nell'estate del 1982 in un momento molto particolare, nei giorni in cui un tempo si faceva la salsa tutti insieme con i nonni, i zii, i nipoti, le comari, i compari e all'interno di questa giornata particolare c'è un rito di iniziazione e il protagonista è un bambino di 10-11 anni, di nome Mario Sì, io rito sicuramente